Quello che sicuramente ci è piaciuto molto e anche delle nuove norme sull'alternanza scuola-lavoro è il fatto che questo percorso possa durare tre anni, perché sono 80 ore all'anno mediamente e quindi creare un percorso con questi studenti che li accompagni dalla terza liceo fino alla fine degli studi liceali con un percorso che ogni anno si ripete e che secondo me, secondo noi, può dare al termine del quinto anno anche un'alternativa a un percorso di studi. Collaborare con altre imprese sul progetto formativo fa sì che se nel mercato siamo concorrenti nel sistema formativo siamo collaboratori e concretizziamo insieme le nostre esperienze per l'edificio dei ragazzi. Io credo che sia, come dicono gli americani, una soluzione win-win e che quindi noi forti dell'esperienza dei 10.000 ragazzi che abbiamo portato in alternanza scuola-lavoro nella nostra provincia di Milano, nelle 80 scuole con cui abbiamo lavorato, dobbiamo continuare perché questo modello a Solombardo diventa un po' un modello virale, come dice il Presidente Rocca, e si estenda a tutte le scuole italiane, alle famiglie e ai giovani del nostro paese.